Tabata con squat jump, 4 minuti alla massima intensità, prima ci riscaldiamo e poi facciamo 4 minuti con 20 secondi di squat jump e 10 di riposo, vediamo come fare l'esercizio. Squat jump, proviamoli insieme, raggiungiamo la posizione squat, carico bene la forza sulle gambe, massima esplosione verso l'alto, facciamolo insieme. Durante i 20 secondi di Tabata massima intensità e ritmo costante, buon allenamento. Iniziamo, distensione laterale, controlliamo bene il movimento, sia in affondo che nel ritorno. Cambio, incrocio braccia-gambe, coordino il movimento, tocco la mano a piede opposto, su. Cambio, distensione laterale e lavoriamo dall'altro lato. Cambio, jumping jack. Non andare troppo veloce, è una fase di riscaldamento. Coordina bene il movimento e la respirazione. Cambio, skip out. cambio, calciate i gluti. gambe divaricate. Ci spostiamo su di un lato facendolo a fondo. cambio, facciamo degli slanci solo con una gamba. controllo bene il movimento. Cerco di toccare con la mano la punta del piede. cambio, lavoriamo dall'altro lato. cambio, lavoriamo dall'altro lato. jump in check. 0 andiamo in posizione facciamo dei piccoli movimenti sul mezzo squat controlliamo bene la postura e il movimento cerchiamo di non andare veloce perché ci stiamo preparando per fare i 4 minuti di tavada ok calciate i glutei andandovi un pochettino più di ritmo 5 secondi e partiamo squat jump ok posizione su pausa controlliamo bene l'appoggio del piede nell'esplosione e nel ritorno pronti via addome contra dai su 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 Grazie a tutti. Non molliamo, siamo a metà. Dai. Io non mollo. Neanche te. Controlla bene il movimento. Dai. Insieme. Controlla bene l'appoggio e l'addome. Pausa. Altri tre. Anche piccoli movimenti va bene. Controlla bene. Ci vediamo al fine percorso. Io recupero. Dai. 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 Dai che è l'ultimo. Dai. Dai. Su. Dai. Si. No. iedzi. Uno. классica. piano calciate i glutei se l'hai fatto bene senti come mi le gambe femorale e gluteo che tira e urla vendetta ok step touch ma controlla bene il movimento altrimenti hai le gambe che ti puntano verso l'interno non 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 palto gambe divaricate una bella respirazione inspiro prendo più aria possibile adesso in apnea inspiro ad inchiusura muovo le gambe e continuo la respirazione occhio piego la gamba d'appoggio e il mio lungo verso il basso testa giù cambio divaricata vai in appoggio scarico il peso del corpo e il mio lungo verso il basso inspiro fuori l'aria di spiro cambio porto l'altro piede in avanti piccolo appoggio e mi allungo giù attenzione e dietro al stimolare tirando su il tuo allenamento è terminato e un'ottima Grazie a tutti.